Sorvolando Auschwitz per non dimenticare Per questo lavoro ho provato ad unire il dovere con il piacere realizzando un compito scolastico grazie alla mia passione per i videogiochi Ho utilizzato il gioco di costruzione Minecraft per riprodurre il campo di concentramento di Auschwitz Lo spunto l'ho preso dai film Il bambino col pigiama a righe e La vita è bella In entrambi si scopre l'orrore attraverso gli occhi dei più piccoli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti